Torna Prato in Rosa, la rassegna dedicata alle donne, promossa dal Comune di Prato in collaborazione con l'Associazione del Territorio. L'appuntamento è per giovedì a partire dalle 19 con sette appuntamenti nelle vie del centro storico, che spaziano dal teatro alla musica, dall'arte al cinema. Ci saranno tante iniziative da opere fatte da artiste pratesi e non artiste, a concerti, film e ascolto di musica. Noi siamo molto contenti perché anche quest'anno il programma è ricco di iniziative e verrà accompagnato anche l'anno scorso dalle voci dell'Eofonics, che porterà la sua musica per le strade di Prato. Siamo contenti perché le categorie economiche ci hanno dato una mano come sempre, siamo contenti perché l'assessorato alle pari opportunità come l'anno scorso ha collaborato sia con l'assessorato alla cultura sia con l'assessorato alle politiche economiche. Questo perché vorremmo fare di questa serata una rete che faccia riflettere alla condizione femminile. In concomitanza con la manifestazione i negozi del centro cittadino resteranno aperti e addobberanno le vetrine ispirandosi al colore rosa.